Premiate le eccellenze dell'Istituto Colombo di Torre del Greco. Giunge all'ottava edizione la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate all'armatore Giuseppe D'Amato. Grande la partecipazione delle istituzioni questa mattina nell'aula magna della scuola. L'occasione anche per parlare del futuro dell'istituto profondamente legato al territorio e della nuova sede. La politica non deve deludere i ragazzi. Il chiaro messaggio alle autorità intervenute della dirigente scolastica Lucia Scimmino che porta avanti questo sogno da tempo. Secondo i piani della città metropolitana si prevede prima una sede provvisoria nei locali dell'ex pretura per poi trasferirsi in quella definitiva da realizzare nell'area dei molini meridionali Marzoli. Questa è l'ottava edizione dove celebriamo appunto la consegna delle borse di studio intitolata Giuseppe D'Amato, l'armatore decano di Torre del Greco che sempre si è speso per i ragazzi e soprattutto per il loro inserimento nel mondo del lavoro. Questa partecipazione così diciamo viva e soprattutto sentita da parte di tutti fa capire l'importanza del nostro istituto. Noi siamo convinti che la politica non dovrà deludere i nostri alunni, la politica non ci dovrà abbandonare. Sono convinta che nella persona del sindaco della città metropolitana Manfredi ho tanta fiducia in lui che arriveremo ad avere per i nostri ragazzi un nuovo edificio presso i mulini Marzoli. È ovvio che dovremo avere un momento di passaggio che sarà quello dell'apertura. Questo momento di passaggio però dovrà essere garantito dal nuovo edificio presso i mulini Marzoli. Una mattinata ricca di emozioni, premiati gli studenti diplomati che si sono particolarmente distinti nell'anno scolastico 2021-2022. Oggi siamo arrivati all'ottava edizione di questa rassegna oramai tradizione del nostro istituto perché rientra nel piano della valorizzazione del merito e delle eccellenze alla finalità tra l'altro di orientare i frequentanti dell'istituto a dare il meglio di sé e ad emergere come talentuosi alunni proiettati verso il mondo marittimo. Oggi si premiano le eccellenze dell'anno scolastico precedente quindi coloro i quali si sono diplomati col massimo dei voti nel 2021-2022 e alcuni di loro non potranno personalmente presenziare perché già lavorano a bordo delle navi come allievi ufficiali. Voglio testimoniare come dire la doglianza dell'industria del fatto che un istituto storico nautico che oggi rappresenta un bacino di utenza importante con un rapporto molto stretto e sinergico con le imprese debba essere, come dire, sfrattato, spostato in una logica, devo dire, di competizione tra enti pubblici che trovo veramente surreale e mi auguro che in qualche maniera si possa trovare velocemente e in maniera consona per poter consentire all'istituto di continuare la sua opera meritoria sul territorio una sede adeguata. Noi come industria, come categoria, faremo il possibile per far sì che questa vicenda trovi una sistemazione adeguata veloce e congrua per cui mi riprometto anche poi eventualmente di fare un intervento con l'associazione categoria con il sindaco i nostri marittimi che vanno sulle nostre navi ci fa piacere che vengano dal nostro paese io sono di Torre del Greco esponente di una famiglia storica di armatori di Torre del Greco è l'industria di riferimento, il corallo, le altre cose la banca, per tanti anni vicino alla banca per cui voglio dire, mi fa veramente piacere che poi partecipare con affetto a queste giornate di festa. Per tutta la vicenda dell'istituto nautico dove l'ASRA è proprietaria e dove abbiamo dovuto trovare una nuova sede momentanea all'ex-sepretura il comune, sapete bene, tutto quello che il sindaco assieme al città metropolitano e con la presa abbiamo portato avanti nell'ex-sepretura che poi devono trasferirsi con il tempo ai mulini marzoli questa sarà la sede poi definitiva un'altra notizia che praticamente sembra ormai imminente è l'apertura della Cassa Marittima mi si dice per fine febbraio dovrebbe ritornare la Cassa Marittima a Torre del Greco io sto chiamando continuamente gli organi che portano avanti i lavori delle istituzioni della Cassa Marittima ormai ci siamo e quindi evitiamo un altro sperpetuo dei nostri marittimi che devono andare continuamente a Napa ci sarà una sede provvisoria nell'ex-prefettura in visione poi un po' più futura di avere i mulini come la prossima sede dell'istituto nautico che tempi ci sono per realizzare quest'opera? è chiaro che c'è prima un processo burocratico da dover effettuare appunto la cessione di alcuni spazi però questo è comunque un percorso che vedrà impegnate le istituzioni per circa 4-5 anni che poi ci sarà la costruzione ci sono dei tempi tecnici da dover rispettare questo è un istituto che forma ragazzi e li mette immediatamente nel mondo del lavoro a questo istituto dobbiamo continuare a dare grande attenzione questo deve essere l'anno della svolta abbiamo messo tutti quanti un impegno sotto il profilo istituzionale la situazione che in qualche modo si prospetta è quella di una soluzione provvisoria sottolineo provvisoria presso l'ex-prefettura per sistemare i ragazzi nell'attesa che presso il complesso degli ex mulini meridionali Marzoli possa finalmente questo istituto vedere i propri allievi sistemati in una struttura adeguata perché il diritto allo studio sia garantito anche in una scuola bella quest'anno sono 60 anni dalla sua istituzione anno scolastico 1962-1963 penso che il regalo più bello non potrà essere che quello della nuova sede noi come Capine di Porto Guardia Costiera naturalmente in un contesto così specifico come quello di Torre del Greco che banta una tradizione storica e consolidata nel settore marittimo non possiamo che essere promotori noi stessi di una formazione professionale che naturalmente avvenga nel rispetto di quelle che sono le norme sia nazionali che sovranazionali la banca accompagna questa iniziativa che tende a mantenere anche questa forte identità del nostro territorio cioè i marittimi e quindi la formazione dei marittimi e dei lavoratori del mare ha sempre rappresentato un momento di come dire importante per la nostra città la città di Torre del Greco ha sempre attratto le sue ricchezze dal mare abbiamo raccolto il testimone ed abbiamo creato la nostra associazione che prende il nome proprio dal Pio Monte dei Marinai nel 1615 che segna una tappa fondamentale della storia non solo del mare della nostra città ma della città stessa della sua identità della sua proiezione della sua capacità di leggere il presente e di proiettarsi verso il futuro da anni sosteniamo l'iniziativa dell'Istituto Nautico che è il DNA stessa della nostra città Grazie Grazie